Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale. Continuiamo il video corso con Excel. Andiamo a vedere oggi come poter proteggere un foglio di lavoro e quindi all'interno del quale renderemo solamente alcune celle disponibili per la modifica. Quindi apriamo il nostro foglio di calcolo Excel. Andiamo a selezionare per esempio tutta la colonna J. Quindi prima di proteggere il foglio dobbiamo decidere quali celle rendere disponibili alla modifica. Quindi andiamo a selezionare tutta la colonna J, tasto destro, andiamo sotto formato celle e andiamo a prendere la scheda di protezione. Vedete di default è bloccata, qui c'è una nota che dice Bloccare le celle e nascondere le formule ha effetto solo se il foglio di lavoro è protetto. Per proteggere il foglio di lavoro utilizzate il pulsante proteggi foglio nel gruppo revisioni, qui, della scheda revisioni. Quindi io vado a deflaggare la voce bloccata e do l'ok. Ora cosa faccio? Vado a proteggere il foglio di lavoro così come mi è stato indicato. Quindi revisione, proteggi il foglio di lavoro. Qui possiamo selezionare che cosa rendere disponibili agli utenti ovviamente che devono accedere a questo foglio di lavoro. Lasciamo di default queste due voci. Al massimo possiamo anche inserire altri permessi. Andiamo a digitare una password. Quindi vado a fare ok. Quindi ora il foglio di lavoro dovrebbe essere protetto. Andiamo a selezionare una cella diversa dalla colonna J. Vediamo, andiamo a scrivere. E quindi nel momento in cui ho editato la cella mi è venuto fuori questo messaggio. Dice la cella e il grafico che si sta provando a modificare si trova in un foglio protetto. Quindi non posso modificare quella cella. Differentemente avviene per le celle che fanno parte della colonna J. Vedete, io posso scriverle tranquillamente. Posso editare e modificarle a mio piacimento. Quindi questo è un escamotage che ci permette di proteggere un foglio di lavoro e rendere possibile solamente l'editing quindi la modifica di alcune celle. Pensate a un foglio di lavoro condiviso in cui solamente l'amministratore può modificare tutto il foglio e quindi rendere disponibili solamente alcune celle a chi deve editare quindi lavorare sul foglio di lavoro per proteggere eventuali formule e quant'altro. Ok, per oggi questo è quanto. Io vi saluto. Vi invito come sempre a mettere un bel like al mio video iscrivetevi al canale e se attivate la campanellina resterete aggiornati su tutti i video che pubblico. Ciao e alla prossima!